E' in corso la tre giorni del Festival Di Che Gusto Sei con il maestro Angelo Grasso, maestro gelataio, insomma come si sta svolgendo questa tre giorni intanto? Ma io direi molto bene, come tutti gli anni d'altronde, è ineccepibile l'organizzazione, ieri praticamente è stato un inizio, è iniziata alla grande come sempre, e per quanto mi riguarda ho ottenuto degli show cooking, praticamente dei corsi per parlare di gelato, soprattutto a chi il gelato lo mangia, non lo fa. Poi c'è stato un concorso, la giuria, ho fatto parte della giuria tecnica, come presidente di giuria, anche quest'anno, e oggi sarà la premiazione. Oggi altri show cooking, parleremo sempre di gelato, io tengo quelli che sono gli show cooking per l'azienda Bravo, che è sponsor, con le macchine gelato, perché per fare il gelato ci vogliono delle macchine, qua abbiamo le migliori, per cui siamo molto molto fortunati. E praticamente oggi parleremo di Così Diventa Solbetto, Granita Solbetto, tutto il primo prodotto che l'artigiano ha creato molti molti anni fa, poi così diventa gelato, poi dalla bendola al tritico, che è la filosofia di lavoro del tritico, la macchina combinata della Bravo, che praticamente è l'evoluzione del vero sistema classico che l'artigiano utilizzava tanti, tanti anni fa. Maestro, quali sono le peculiarità dei gusti in concorso? Guarda, i gusti in concorso sono stati veramente di qualità elevatissima, e oltretutto hanno rispettato i prodotti del territorio. Ti giuro che è stato un lavoro non facile giudicare, la valutazione è stata altissima. Erano 16 campioni in gara che ho valutato, addirittura abbiamo avuto alla fine un ex equo, abbiamo dovuto rivalutare due campioni per il terzo posto, che sinceramente le qualità, dal miele allo zafferano, alla riguerizia, tutte quelle che sono le qualità della vostra terra, che è meravigliosa. La Bruzzo, ma sì, la Bruzzo offre veramente di tutto, è veramente meraviglioso.